Modestino di Nella, se prese il primo classificato, in diretta con il concorso internazionale di postura del Nino Inmesso, primo classificato, Angelo Camino a Ricco Senza, Murno Amaro. Qua per esempio vediamo un'opera di Doroteo Virtuoso, se non c'è un dono con luce d'amore, tecnica e felice, su riforme chiare, scrisse la loro essenzialità e sostituendo il pilastro in morbide rapporti romantico, il soggetto è spiegato. Passando a grazia famiglietta, se non voto ci vuole al primo settore 50 per 50, la spinta tra lei di un'anima di risoluzione di te, la dolce si evolve in una ordinata crescente sequenza spirale, coinvolgendo il pietra di violenza, sui medicini in posta del Nino Inmesso, primaveramente secundaria. Ovviamente dobbiamo mangiare il genio di Sarenza, una cazza centrale, della un giocistro in occasione della mostra a un pazzo di questo nome. Ancora, grazie a tutti, a tutti, a tutti e a tutti, a tutti e all'intervio promesso della nostra presenza, e che c'è in tutte le situazioni di cui ci sono lasciate lì, che non predate sulla razione di casa. Grazie, grazie a tutti, a tutti e a tutti. Grazie. 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 Grazie.